Buongiorno a tutti e benvenuti a questa lezione introduttiva del corso Bitcoin Blockchain Technology dell'Università Bicocca di Milano. E' un piacere avervi in aula così numerosi per un corso che è sicuramente particolarmente interessante, sofisticato, innovativo. Teniamo conto che al mondo di corsi di questo tipo ce ne sono all'MIT, a Stanford, a Princeton e probabilmente a Milano in Bicocca e al Politecnico. Quindi sicuramente è un argomento particolarmente innovativo e penso anche abbastanza affascinante per cui suggerisco a tutti di allacciare le cinture di sicurezza perché sarà una cavalcata piuttosto divertente e anche un po' rocambolesca a tratti per i suoi contenuti. Allora partiamo da un'osservazione che oggi su questi argomenti la comprensione è estremamente limitata. Avrete forse sentito parlare soprattutto della Blockchain o speriamo forse alcuni più di Bitcoin, ma soprattutto della Blockchain di questa tecnologia dicono che prometta grandissimi cambiamenti per il mercato dei capitali e in generale dei servizi finanziari. Sebbene pochi sappiano dire esattamente perché o come, se lo sanno dire in pochi perché in realtà queste cose le hanno capite molto in pochi. Le hanno capite in pochi perché hanno una difficoltà intrinseca nella loro comprensione. La difficoltà intrinseca consiste nel fatto che Bitcoin e Blockchain si collocano sostanzialmente all'incrocio di diverse aree, teoria dei giochi, criptografia, computer networking and data transmission e teoria monetaria ed economica. Allora queste quattro aree come ben sapete non sono aree che dal punto di vista accademico o scientifico di solito vengono affrontate in maniera contestuale e o sinergica. Anzi se voi doveste chiedere a me quante persone conosco al mondo competenti su queste quattro aree la risposta più onesta sarebbe probabilmente nessuna. Competenti su tre di queste quattro aree ma direi un paio di dozzine di persone al mondo competente su due di queste aree, qualche centinaio, due o trecento persone al mondo tra cui spero il sottoscritto, su una di queste aree le migliaia di persone che parlano di questi argomenti tipicamente avendone capito una fettina molto molto sottile e pontificando in maniera piuttosto impropria su tutto il resto. Ma vi garantisco che la sfida è veramente interessante, nel senso che al passare del tempo anche io stesso che diciamo da metà del 2014 a oggi ho dedicato energie piuttosto significative a livello personale, professionale e intellettuale a questo argomento, scopro continuamente di comprendere meglio oggi cose che in passato avevo capito male o avevo totalmente in realtà fraintesi. Il primo grande fraintendimento è che qui non parliamo di tecnologia, lo so il corso si chiama Bitcoin Blockchain Technology, qualche concessione e compromessi bisogna pur farla e posto che tutti volevano un corso di tecnologia blockchain e io anzi perlomeno ho insistito che bisognasse parlare di Bitcoin e penso che nel corso di questa prima lezione già sarà chiaro perché insomma un qualche compromesso bisogna farlo, ma non si tratta realmente di una tecnologia, non si tratta cioè di qualcosa che possiamo prendere off the shelf e integrare i nostri sistemi, perché si tratta in realtà di un cambiamento di paradigma culturale, il passaggio dalla centralizzazione a un paradigma di decentralizzazione e i campi di paradigma specialmente quando riguardano schemi culturali consolidati da decenni o in alcuni casi quando si tratta di moneta da secoli se non addirittura millenni sono molto difficili da cambiare. Di Bitcoin magari almeno a livello di gossip o di notizie così un po' approssimative sulla stampa ne avete sentite e forse avete l'idea che si tratta di una currency digitale decentralizzata. La vera notizia non è che sia digitale, perché voi sapete benissimo che i nostri euro o i dollari o le sterline o i franchi svizzeri sono fondamentalmente oggi digitali, le banconote e le monetine che ci portiamo in tasca sono una frazione trascurabile per certi aspetti della massa monetaria esistente, di conseguenza la novità non è avere una valuta digitale ma è avere una valuta decentralizzata, questo è particolarmente interessante. Perché è particolarmente interessante? Perché non ha prima di Bitcoin altri corrispettivi, nel senso che questa volta si tratta di una moneta che non è sponsorizzata, non è sostenuta da alcun governo e da alcuna organizzazione. Da questo punto di vista però è una moneta che nonostante la mancanza di organizzazioni centrali che la presiedono è in grado di consentire transazioni istantanee per il 2p che non ha bisogno di una terza parte fiduciaria per funzionare, che basa la sua sicurezza su protocolli criptografici e che quindi rappresenta potenzialmente lo cost banking per tutti ovunque. Allora capite che da questo punto di vista qualcuno ha già iniziato a spaventarsi, ha iniziato a spaventarsi perché c'è un pattern che vediamo realizzarsi. Se la posta è diventata elettronica, se le enciclopedie treccani o la britannica sono diventati Wikipedia, se la nostra musica e i nostri film sono diventati liquidi, Spotify, Netflix, ecco che a torto o a ragione c'è un'aspettativa fondata che un intero sistema bancario e finanziario entri nei nostri smartphone e la blockchain, ed in particolare la blockchain di Bitcoin è assolutamente in pole position per rispondere a questa esigenza. E sì, perché se noi ci pensiamo nel momento in cui ci scambiamo un email o un numero di telefono diventa impossibile per tutti noi trasferirci reciprocamente una quantità di dati sostanzialmente quasi illimitata con costo marginale nullo. Nulla impedisce a me di trasferire a voi una copia del filmino di compleanno di mia figlia, diversi megabyte se non diversi gigabyte. Ripeto, a costo marginale nullo per me. Eppure se io volessi trasferire i pochi byte che rappresentano la mia ricchezza, innanzitutto il vostro identificativo telefonico o email non mi è sufficiente, devo trovarne un altro un po' più convoluto. Inoltre posso farlo soltanto dalle 9 alle 5, dal lunedì al BNB e magari pagando addirittura una commissione. Ripeto, per trasferire i pochi byte che rappresentano la mia ricchezza. Insomma è evidente che tra una decina d'anni guarderemo indietro, forse anche meno, e troveremo assolutamente implausibile, quasi ai limiti del ridicolo, che nel 2017 gli esseri umani per trasferire valore dovessero sottostare a condizioni così arbitrarie e così unfair rispetto a qualunque altro bene digitale o asset digitale o contenuto digitale che sono capaci di trasferire senza alcuna significativa limitazione o censura. Allora la domanda non è se, ma solo chi e quando regalerà all'umanità un network di pagamenti per 2P, gratuito e istantaneo. E ripeto, Bitcoin e blockchain sono in pole position. Bitcoin perché rappresenta la moneta dell'economia dell'informazione. Perché dico che è in pole position? Perché è decentralizzato, perché è permissionless, perché è resistente alla censura, perché è l'accesso aperto, è gratuito, sostanzialmente gratuito, non conosce confini, è trasnazionale, è sicuro ed è estremamente resiliente. Ecco che quindi Bitcoin si presenta con delle credenziali particolarmente impressionanti. Tant'è, e questo è un grafico che riguarda il 2015, tutte le principali istituzioni finanziarie nel 2015 hanno investito seriamente in Bitcoin, in blockchain in questa tecnologia, nessuno escluso. Per degli investimenti che alla fine del 2015 erano arrivati a un miliardo di dollari e che hanno continuato nel 2016 e stanno continuando nel 2017, la loro crescita. Ma che si tratti di una cosa seria e non di un giocattolo, lo possiamo verificare ad esempio controllando sulla blockchain di Bitcoin, e sì perché la blockchain di Bitcoin lo vedremo a brevissimo, ma è qualcosa di trasparente che tutti possono controllare e verificare, cliccando su questo link arrivate sostanzialmente alla descrizione di una transazione finanziaria che si è svolta da una serie di indirizzi Bitcoin, a un indirizzo Bitcoin di destinazione, nel dicembre 2014 per 217.000 eroti Bitcoin che all'epoca rappresentavano 83 milioni di dollari, tra parentesi oggi rappresentano 217 milioni di dollari, ma questa è una notizia quasi gossipara, ripeto una transazione di 83 milioni di dollari avvenuta con solo 4 centesimi di commissione. Istantaneamente da qualunque punto del globo a qualunque altro punto del globo è abbastanza significativo, vi assicuro che come sicurezza e come economicità della transazione queste sono cose che lasciano di stucco e impressionati, anche oggi quando le commissioni sono salite, ma insomma sono sempre intorno diciamo così indicativamente a un livello di 50 centesimi a transazione. Ma il motivo per cui tutti noi siamo qui, è inutile negarlo, è questo grafico del prezzo di Bitcoin. Sì, questa specie di montagne russe di qualcosa che nell'aprile 2011 valeva un dollaro, che prima dell'aprile 2011 veniva sostanzialmente regalato gratuitamente e che è arrivato a valere poche settimane fa 1300 dollari. Come vedete è una montagna russa ed è per questo che vi ho consigliato di allacciare le cinture di sicurezza, perché questi crolli fanno abbastanza male al cuore ed anche al portafoglio, o forse al portafoglio e per questo anche al cuore. Cosa è successo nel 2014 per cui Bitcoin raggiunge il suo picco di quasi 1200 dollari per poi crollare bruscamente? Beh, è successo che sostanzialmente People Bank of China, la banca popolare cinese, la banca centrale cinese, scusate, emette un warning verso le istituzioni finanziarie in cui suggerisce alle istituzioni finanziarie di non giocare con Bitcoin, cioè di non detenere, comprare o vendere Bitcoin. Tenete conto che in quel momento la Cina vedeva l'80% delle transazioni in Bitcoin. Non solo, ma la moral suasion di una banca centrale, che vi garantisco è sempre fortissima, ma è particolarmente intensa in un regime dittatoriale, perché non dimentichiamoci che la Cina è una dittatura, suggerisce ad Alibaba, che allora conoscevamo in pochi ma che abbiamo imparato essere sostanzialmente l'Amazon di un miliardo e passa di cinesi, ripeto, suggerisce ad Alibaba di cancellare i prezzi in Bitcoin. E sì, perché Alibaba aveva in Cina già i prezzi in Bitcoin. Allora Bitcoin si può permettere di perdere il suo mercato principale, che rappresenta l'80% dei traffici e ovviamente, delle transazioni, ovviamente ecco che crolla il prezzo di Bitcoin da 1.200 a circa 600-700 dollari. Non fa in tempo il prezzo a riprendersi, vedete questa risalita, che altro scandalo drammatico, MTGOX, il principale exchange dollaro Bitcoin, quindi se vogliamo in qualche modo la principale istituzione finanziaria di Bitcoin all'epoca, fallisce. e fallisce portandosi a picco tutti i Bitcoin e i dollari che deteneva per conto dei suoi clienti. Cosa sia successo non è ancora stato chiarito, sicuramente c'è stata una frode, se sia stata una frode interna o se è stato un hacker esterno a bucare MTGOX non lo sappiamo, ma di fatto Bitcoin vede il crollo, la perdita della sua principale istituzione finanziaria. A tutto questo dobbiamo aggiungere che nell'ottobre 2013 era stato Ross Ulbricht, l'inventore di Silk Road, l'amministratore di Silk Road. Cos'era Silk Road? Silk Road era un mercato del deep web, del web nascosto, del web non indicizzato, del dark web. Nel dark web ovviamente si muovono coloro che certe cose non vogliono, non possono farle sul web aperto. Quindi tipicamente Silk Road era diventato un mercato online della droga e delle armi. Ecco che il suo creatore, il suo inventore viene arrestato in ottobre 2013, tra pareti si è andato due o tre ergastoli o qualcosa del genere, tanto per passare con chiarezza il messaggio che con queste cose non bisogna scherzare, ma di fatto Silk Road perché è rilevante per la storia di Bitcoin? Perché la moneta di elezione di questo mercato e dei mercati che sono seguiti a Silk Road, perché ovviamente spento Silk Road sono nate dozzine di emuli e di successori, nel mercato del deep web, del dark web, della droga, Bitcoin è la moneta di elezione per comprare e vendere. Allora capite che Bitcoin è strano, ma sicuramente Bitcoin è resiliente, perché non esiste null'altro nel mondo finanziario che in soli otto anni, senza appoggio di governi e corporation, possa permettersi di perdere il suo mercato principale, l'80% delle transazioni in Cina, possa permettersi di vedere il fallimento della sua istituzione finanziaria di riferimento finora, possa avere la cattiva reputazione di essere moneta della droga ed essere ancora vivo e vegeto a dei livelli, fra l'altro di prezzo, che sono intorno ai massimi assoluti di sempre, in questo momento intorno ai mille dollari. Ma vi diranno, Bitcoin è pericoloso perché è usato dai terroristi? Non è vero, non è vero, basta guardare un report dell'Europol, di cui qui mando il link, in cui l'Europol dice chiaramente che non c'è evidenza del fatto che i terroristi stiano utilizzando Bitcoin. Oppure vi diranno che Bitcoin è pericolosissimo per il riciclaggio di denaro sport. Questo è un report del tesoro inglese che elencando i principali rischi di money laundering per il riciclaggio, mette al primo posto le banche, al secondo posto gli accountancy service, al terzo posto i legal services e solo all'ultimo posto le digital cards. Allora è evidente che in questo momento la moneta di elezione per terroristi e per il cartello colombiano della droga resta il buon vecchio beniamato dollaro statunitense, con il dollaro secondo runner up, scusate, con l'euro secondo runner up. Ora è evidente che andando avanti nel tempo maggiore sarà la diffusione di Bitcoin, maggiore sarà la sua accettazione, più facile sarà che Bitcoin verrà usato realmente anche per usi patologici. Ma gli usi patologici non devono offuscare la percezione dell'utilità di qualcosa e dei suoi usi fisiologici. Non ci verrebbe mai in mente di dichiarare illegale il dollaro statunitense, piuttosto che internet, piuttosto che la telefonia cellulare, piuttosto che l'aviazione, soltanto perché queste sono cose che vengono utilizzate da terroristi e da criminali. Un esempio invece piuttosto sfortunato, molto triste, l'utilizzo di Bitcoin per usi criminosi è quello dei CryptoLocker. Qualcuno di voi potrebbe esserne venuto a conoscenza, sono dei virus particolari che sostanzialmente quando infettano una workstation o una rete, criptano l'hard disk rendendo i dati inaccessibili al proprietario di quei dati. E i dati vengono decrittati solo dietro il pagamento di un riscatto. I CryptoLocker esistono probabilmente da una luzina d'anni, forse di più, ma una volta raccoglievano il riscatto in dollari, oggi ovviamente preferiscono il riscatto in Bitcoin per la natura di Bitcoin, che consente transazioni facili, veloci, non censurabili, parzialmente offuscate, vedremo fin quando, fino a che punto, e quindi chiaramente si prestano meglio per la loro superiorità tecnica e maggiore efficienza anche a questi usi patologici. La Bitcoin si inserisce nella storia delle monete private. Le monete private sono monete, appunto, non sponsorizzate da governi, che quindi non hanno corso legale, immagino che tra di voi sappiate cosa vuol dire corso legale. Corso legale vuol dire che se io ho un debito con una controparte e voglio pagarlo in diamanti, o voglio pagarlo in oro, o voglio pagarlo, essendo cittadino italiano, in sterline, la mia controparte può rifiutarsi. Ma se io voglio pagare in euro, la mia controparte non può rifiutare il saldo di un debito in euro. Questo vuol dire aver corso legale. Bene, le monete come Bitcoin, o in generale le monete private, nel cui solo il Bitcoin si inserisce, non hanno questa caratteristica. Quindi per essere accettate devono essere semplicemente riconosciute come utili e come accettabili da entrambe le controparti. Non hanno corso legale. Abbiamo un paio di episodi di monete private negli ultimi anni. Liberty Dollar e i Gold sono particolarmente interessanti soprattutto per il motivo, per il fatto che non appena hanno avuto un certo successo, i loro fondatori sono stati arrestati e in almeno uno dei due casi, e devo confessarvi, delle forti perplessità sul fatto che la persecuzione giudiziaria a cui sono sottoposti abbia dei margini di validità. Ma di nuovo è molto chiaro che messaggio il sistema passa a chi gioca con la moneta privata. Non provateci. Giocate a Monopoli, con i soldi del Monopoli, ma non pensate mai, non pensate mai, di poter veramente giocare con la moneta. La moneta appartiene a Cesare, appartiene al governo, appartiene all'imperatore e solo lui ha il diritto di batterla e solo lui ha il diritto di governarla in modalità sostanzialmente monopolistica. Ecco che invece arriva Bitcoin, sul solco, ripeto, di queste monete private in particolare e permette il trasferimento digitale di valore. Ma di nuovo, non è il trasferimento digitale di valore ad essere cruciale, perché siamo tutti familiari col fatto che un bonifico non è altro che un trasferimento digitale di valore. Ma in questo caso si tratta di un trasferimento digitale di valore possibile in assenza di un intermediario, in assenza di una controparte centrale. E questo è straordinariamente interessante. Soprattutto se lo si riesce a ingegnerizzare, come nel caso di Bitcoin, come resistente a qualunque tipo di attacco malizioso, di agente malizioso. Bitcoin ha una serie di precursori più o meno straordinari, David Chum con i Cash, Adam Back con Ash Cash, Waydown, Nick Zabo con Bitgold, Al Finney con la sua Reusable Proof of Work, ma insomma, per arrivare all'attualità o comunque al contenuto del nostro corso, ottobre 2008, 31 ottobre 2008, uno sconosciuto, Satoshi Nakamoto, scrive un email a una mailing list di criptografia annunciando di aver lavorato alla creazione di un new electronic cash system that's fully peer-to-peer with no trust at third party, cioè di avere un cash digitale che non richiede terza parte fiduciaria. Soprattutto sostiene di aver risolto il problema del double spending, ovvero della doppia spesa. Questo è un risultato straordinario, perché la comunità cyberpunk sognava una moneta digitale indipendente da decenni, il problema del double spending era un problema reputato sostanzialmente irrisolvibile, non un problema che si potesse tentare di risolvere, ma irrisolvibile. E' chiaro che questo paper, che questo annuncio viene accolto con un certo scetticismo, tanto più in quanto viene presentato da un perfetto sconosciuto che si presenta sotto il nome di Satoshi Nakamoto. Non si sa a tutt'oggi se Satoshi Nakamoto sia un lui, una lei, o un gruppo, perché si è sempre celato dietro quello pseudonimo. Newsweek ha pensato di ritracciarlo, ci sono dei charlatani come Craig Wright che hanno detto io sono Satoshi, ma ovviamente non hanno dato alcuna prova affidabile di esserlo. Ma insomma, Mr. Nakamoto sicuramente ha lavorato su Bitcoin almeno nel 2007, pubblica il paper appunto nell'ottobre 2008, quando gli dicono i primi che leggono il paper e che più lo prendono in considerazione, più è interessante, sarebbe utile avere però un white paper che documenti lei, il signor Nakamoto, come ha intenzione di implementare realmente nel codice questa idea. Nakamoto risponde no, no, non ho il tempo di scrivere un white paper anche perché a brevissimo rilascio il codice ed effettivamente nel gennaio 2009 rilascia il codice sorgente. e quindi Bitcoin nasce il 3 gennaio 2009. Ora la cosa interessante di questo Nakamoto è che è sostanzialmente scomparso dalla metà del 2010. Sì, è scomparso, non si è fatto più sentire, in nessun modo si è più coinvolto con lo sviluppo del progetto e vi dico fra l'altro che questa cosa non è capitata all'improvviso che uno può immaginare il poveretto avrà preso un ictus, un infarto ed è scomparso. No! Satoshi Nakamoto passa la gestione del progetto a Gavin Andreessen e progressivamente dirada i suoi interventi fino al punto in cui risponde soltanto alle mail Gavin. Quando Gavin però nel maggio 2010 gli scrive CIA, la CIA mi ha contattato per un'intervista da quei giorni in avanti Satoshi Nakamoto non risponde più neanche a Gavin e scompare completamente. Tra l'altro un fatto interessante è che possiede circa un milione di bitcoin quindi un miliardo di dollari e non ne ha mai speso nemmeno uno quindi sicuramente un personaggio strano controverso peculiare c'è di che farci un film se qualcuno ha delle inclinazioni su sceneggiature di tipo non saprei come definirlo comunque cyberpunk Nakamoto aveva certamente delle motivazioni politiche ma non le rende mai preponderanti nella sua attività lui parla chiaramente di una battaglia in cui possiamo guadagnare nuovi territori di libertà per molti anni e riconosce immediatamente che il bitcoin è molto attraente dal punto di vista libertario se viene spiegato in maniera appropriata ma conclude io sono più bravo col codice che non con le parole in realtà anche il codice sorgente di bitcoin non è particolarmente almeno quello originariamente presentato da Satoshi Nakamoto particolarmente straordinario o elegante qualcuno l'ha definita una matassa intricatissima molto difficile da sciogliere ma è in dubbio che Satoshi Nakamoto rappresenta un genio assoluto e più e più volte durante il nostro corso avremo modo di apprezzarne i molteplici colpi di genio quando lancio il codice sorgente il 3 gennaio 2009 sostanzialmente nel genesis block quindi nel nel primo blocco di quella catena di blocchi blockchain che sarà sottostante il protocollo bitcoin mette un commento che è il titolo del taglio del 3 gennaio il cancelliere dello scacchiere sta per salvare una seconda banca quindi lui è perfettamente consapevole della crisi finanziaria che nel 2008 2009 era rampantissima al suo esordio assolutamente preoccupante e spaventoso e chiaramente collega bitcoin come una possibile risposta a questo tipo di crisi finanziaria rilascia il codice di bitcoin con una licenza che è open source e free software adesso vuol dire sostanzialmente che il codice sorgente di bitcoin può essere utilizzato copiato modificato e ridistribuito spero che voi appreziate la differenza tra la licenza free software e open source e le licenze del software commerciale che di solito usate io spero vi sia chiaro che il software che voi acquistate non è vostro non è una vostra proprietà voi ne acquistate una licenza d'uso quindi potete usarlo potete usarlo solo voi non potete regalarlo non potete ridistribuirlo e soprattutto anche se avete acquistato una licenza d'uso per voi stessi se quel software funziona male o non vi piace come funziona non potete modificarlo quindi nell'ambito del software spero che alle nuove generazioni i problemi che cosa sia il copyright il diritto d'autore e anche i brevetti non sfuggano nella loro straordinaria delicatezza invece il codice sorgente di bitcoin se ne può fare quello che si vuole è stato usato quindi fondamentalmente per bitcoin all'inizio poi per altri per altri alternative coin di cui parleremo ma sostanzialmente viene usato però da otto anni interrottamente per bitcoin ma per bitcoin si intende a questo punto due cose e vale la pena indicarle con chiarezza abbiamo bitcoin la currency e bitcoin il protocollo bitcoin con la B maiuscola si intende appunto il protocollo il software il codice sorgente e in generale la comunità anche se ultimamente è sempre di più invalsa la pratica soprattutto nelle audience meno tecniche di definire la tecnologia o il protocollo sottostante bitcoin come blockchain comunque insomma blockchain o bitcoin con la B maiuscola contrapposti o comunque differenziati da bitcoin con la B minuscola perché bitcoin con la B minuscola sono invece le unità di currency noi possiamo dire che il bitcoin con la B minuscola il bitcoin moneta sono trasferiti sono spesi usando bitcoin con la B maiuscola cioè il protocollo bitcoin quindi la moneta bitcoin non è altro che come se fosse il primo straordinario esperimento di una proprietà di una property di un asset digitale creato all'interno del protocollo bitcoin medesimo ora il protocollo che cosa in che cosa consiste il punto principale o perlomeno il punto più evidente del protocollo bitcoin è l'esistenza di un registro pubblico di un transazione quello che in inglese viene chiamato ledger e che in italiano si dovrebbe tradurre come libro mastro cioè un libro contabile la cosa interessante di nuovo di questo registro pubblico e che è distribuito nel senso che è condiviso con tecnologia peer to peer ora magari siete familiari con BitTorrent cioè la tecnologia peer to peer che è venuta dopo Napster Nutella e Mule le prime modalità di file sharing prevedevano sempre un server centrale che metteva in comunicazione i diversi peer del network ovviamente la presenza di un server centrale consentito alle autorità di spegnere il server centrale o di arrestare l'amministratore di quel server e quindi sostanzialmente di spegnere i network di file sharing è stato per superare questo che l'inventore di BitTorrent Brian Cohen ha inventato un protocollo in cui non c'era più un server centrale ma sostanzialmente i nodi della rete avevano tutti una copia del file che volevano condividere ed erano assolutamente equivalenti fra di loro in maniera tale che per spegnere un tale network bisognasse spegnere di fatto tutti i nodi della rete rendendo sostanzialmente questa operazione impossibile ecco che Satoshi Nakamoto prende ispirazione esattamente dal protocollo BitTorrent per condividere un file peculiare un file particolare un unico file che è il registro pubblico delle transazioni quindi Bitcoin prende ispirazione in parte da BitTorrent e lo tradisce forse un po' anche nel nome questo registro pubblico delle transazioni è sostanzialmente il registro che permette il trasferimento di un gettone digitale univoco questo gettone può essere scambiato ma non duplicato e questo ragazzi è una feature straordinaria perché se voi pensate in ambito digitale qualsiasi cosa voi conoscete in ambito digitale può essere trasferita ma duplicandola può essere clonata Bitcoin è la prima volta che in ambito digitale qualcosa può essere trasferito scambiato ma non duplicato ora questo registro pubblico tiene quindi traccia di tutte le transazioni dall'inizio dei tempi o perlomeno dall'inizio dei tempi Bitcoin e tiene conto di tutte le transazioni sostanzialmente per sempre rappresenta quindi potenzialmente un protocollo che è capace di rimpiazzare qualunque central authority qualunque authority centrale il cui ruolo sia quello di manutenzione di un registro centrale pensate al catastro pensate al pubblico registro automobilistico potete pensare a quante authority gestiscono non fanno altro che gestire un unico registro centrale ovviamente se scopriamo che col protocollo bitcoin possiamo rimpiazzare un authority particolarmente cruciale critica come una banca centrale ecco che allora il protocollo bitcoin promette di poter sostituire qualunque authority centrale col suo equivalente decentralizzato peer to peer è criptograficamente sicuro che poi è un po' il motivo per cui tanti si sono entusiasmati per questa tecnologia e dicono lasciamo perdere la moneta lasciamo perdere le banche centrali che è meglio non non stuzzicarle su questi argomenti non possiamo usare la tecnologia semplicemente senza usare la moneta e la risposta di questo corso è sostanzialmente no la moneta bitcoin non si trova da nessuna parte in forma fisica evidentemente esiste soltanto quindi come transazione documentata e registrata su questo registro pubblico per esempio questa sequenza alfanumerica è uno dei miei wallet bitcoin è uno dei miei indirizzi pubblici bitcoin che vedete sotto anche la forma di QR code questo registro pubblico distribuito che abbiamo già anticipato si chiama blockchain ma adesso vediamo perché certifica per chiunque e quindi anche per voi quanti bitcoin ci sono associati a questo indirizzo se cliccate su questo link potete vedere tutta la storia transazionale associata a questo indirizzo e anzi spero che grati dell'introduzione al bitcoin alla blockchain di questo corso vorrete magari più avanti quando acquisterete i vostri primi bitcoin mandare una piccola offerta a questo indirizzo guardate che non misuro l'importo monetario misuro soltanto il numero di transazioni quindi va benissimo anche pochi centesimi di euro è una specie di token di apprezzamento ovviamente per chi intendesse sostenere l'esame non fatelo prima dell'esame perché si presterebbe a accuse di corruzione e vi garantisco che non sarebbe piacevole né per me ma tantomeno per voi bitcoin è fondamentalmente quindi un asset scritturale esiste soltanto come transazione validata su questo registro pubblico e qui è un altro punto che nel corso apprezzeremo sempre meglio ma che è di totale rilevanza oggi bitcoin non è una liability non è la promessa di qualcuno non è un impegno di pagamento non è come si dice in inglese un IOU una cambiale ok è uno strumento al portatore è un asset al portatore guardate che questo è straordinariamente importante perché possiamo avere opinioni diverse su quanto sia giusto che valga un bitcoin e per fortuna non dobbiamo discuterne a livello dialettico ma il mercato tramite la legge della domanda dell'offerta decide quanto vale un bitcoin però è importante apprezzare che un bitcoin intrinsecamente non ha rischi di controparte non può defaultare non è l'impegno di qualcuno e guardate che costruire un'economia su un pilastro di questo tipo è qualcosa di particolarmente significativo e di resiliente ma ci torneremo quando nell'ambito del corso affronteremo di nuovo gli aspetti monetari di questa chiamiamola così tecnologia la parte tecnologica più cruciale sottostante bitcoin è fondamentalmente la criptografia in particolare quell'area della criptografia nota come criptografia simmetrica cioè come coppia public private key come una coppia di chiavi pubbliche e private allora le chiavi pubbliche e private sono una coppia legata matematicamente e le due chiavi servono a scopi opposti nell'ambito di un paradigma di firma digitale si proprio la firma digitale di cui magari avete sentito parlare la firma digitale che per esempio l'amministrazione pubblica accetta come pecc allora come si usano una chiave pubblica e una chiave privata la chiave privata che io marco in rosso perché la chiave segreta è la chiave che non deve essere condivisa con nessuno e anzi deve essere la cui deve essere preservata con straordinaria attenzione è la chiave che io posso usare per apporre una firma la chiave pubblica che invece è appunto distribuita a tutti evidente a tutti è pubblica può essere usata da chiunque per verificare l'originalità della firma apposta dalla chiave privata collegata un wallet bitcoin è sostanzialmente una chiave pubblica o meglio attenzione è derivato da una chiave pubblica ma nel resto del corso potrebbe capitarmi spesso per brevità di dire che un indirizzo bitcoin è una chiave pubblica ovviamente voi imparerete che non è una chiave pubblica ma è qualcosa di derivato facilmente univocamente da una chiave pubblica la chiave privata invece permette di spendere da un wallet la cosa che possiamo fare di interessante è cliccare per esempio su questo indirizzo bitadress.org e dopo aver inizializzato il sistema con una buona dose di casualità o di entropia vediamo che questo sistema che è il codice sorgente di quella pagina web è in grado di generarmi un numero sostanzialmente dal mio punto di vista illimitato di indirizzi bitcoin o di coppie chiave pubblica chiave privata ok e quindi vi incoraggio a farlo e a prendere confidenza con questo tipo di indirizzi alfanumerici che rappresentano una chiave pubblica e di questi indirizzi alfanumerici che rappresentano una chiave privata e che possono essere codificati anche sotto forma di QR code cos'è una transazione bitcoin? una transazione bitcoin è sostanzialmente un pagamento da un indirizzo bitcoin a un altro indirizzo bitcoin cioè un trasferimento da una chiave pubblica a un'altra chiave pubblica immaginiamo che io voglia spedire un bitcoin a Chiara evidentemente chiederò a Chiara di darmi la sua chiave pubblica o meglio il suo indirizzo bitcoin e firmerò un messaggio ma sì un messaggio di testo un messaggio magari digitale binario ma comunque un messaggio vero e proprio in cui dico voglio spedire un bitcoin alla chiave pubblica di Chiara quindi non avrò evidentemente un'identificazione personale ma dirò qual è l'amount che voglio trasferire e qual è la chiave pubblica a cui voglio trasferirlo firmerò questo messaggio con la mia chiave privata ora quando poi distribuisco questo messaggio nel network quello che succede è che utilizzando la mia chiave pubblica badate non la chiave pubblica del ricevente ma la chiave pubblica del mittente usando la chiave pubblica del mittente chiunque può verificare cosa fondamentalmente che il messaggio è stato firmato dalla chiave privata corrispondente e che non è stato successivamente alterato se quel messaggio fosse stato alterato la firma non risulterrebbe più valida ma soprattutto altra cosa estremamente interessante è il fatto che l'amount la quantità di bitcoin che io voglio trasferire è veramente a mia disposizione perché siccome tutti conoscono la chiave pubblica del mittente la usano non solo per verificare che il messaggio non è stato alterato ed è stato veramente firmato dal detentore della chiave privata ma usando quella chiave pubblica siccome la chiave pubblica è il wallet bitcoin è l'indirizzo bitcoin a cui è associato in qualche modo il saldo dei bitcoin è immediatamente verificabile che la chiave pubblica del mittente abbia a sua disposizione quella quantità di bitcoin che vuole trasferire allora a questo punto immaginando che voi siate i nodi del network ognuno di voi può indipendentemente avendo accesso soltanto alla mia chiave pubblica verificare che la transazione che io ho disposto è legittima nel senso che io possego questi piccoli che voglio trasferire e che la disposizione di trasferimento veramente è stata iniziata originata da me allora a questo punto uno qualsiasi dei nodi della rete può registrare questa transazione in coda al registro pubblico e a quel punto tutti i nodi della rete sono avvertiti del fatto che la transazione è stata finalizzata e che il bitcoin originariamente associato alla mia chiave pubblica adesso è effettivamente passato nel controllo della chiave pubblica di Chiara capire che la sicurezza di bitcoin è fondamentalmente la sicurezza con cui conserviamo le chiavi private che ci permettono di trasferire bitcoin l'accesso alla chiave privata è sostanzialmente la ownership la titolarità efficace di bitcoin bitcoin ripeto è uno strumento al portatore non è uno strumento registrato chiunque entri in possesso della chiave privata può disporre dei bitcoin associati in maniera irrevocabile e incensurabile di conseguenza attenzione a dove tenete o a come conservate le vostre chiavi private c'è software per pc a disposizione c'è software per client mobile per cellulari oppure ci sono anche delle pratiche delle practice che vengono chiamate cold storage conservazione a freddo se voi nel segreto della vostra stanzetta generate una chiave pubblica una coppia chiave pubblica chiave privata e vi garantisco generare la chiave privata è abbastanza semplice o perché potete usare il codice sorgente di bitadress.org dopo aver verificato che non è il codice sorgente che è stato bucato da qualcuno e magari lo fate generate la vostra coppia chiave pubblica chiave privata nel segreto della vostra stanzetta su un pc che non è collegato a internet insomma oppure tirate un dado o una moneta testa o croce 256 volte di seguito registrando 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 bene quel numero lì è la vostra chiave privata imparate in questo corso come generare la chiave pubblica come generare un indirizzo bitcoin morale se conservate in cassaforte in un luogo che non ha mai visto internet e mai vedrà internet la vostra chiave privata siete sicuri che nessuno potrà mai rubarvi quei bitcoin la corrispondente chiave pubblica invece potete portarvela in giro e usarla per ricevere bitcoin da controparti o per depositare su quella chiave pubblica i bitcoin che eventualmente vorrete comprare su un exchange abbiamo visto questi indirizzi alfanumerici e abbiamo parlato del fatto che Chiara mi dà il suo indirizzo vi ho fatto vedere uno dei miei indirizzi ma spero vi sia evidente che l'indirizzo in sé non comunica nulla non dice nulla del suo titolare anche perché in realtà il titolare di quell'indirizzo è chiunque abbia accesso alla chiave privata quindi magari c'è un titolare tra virgolette legittimo ma ci potrebbero essere titolari tra virgolette eticamente illegittimi che sono qualcuno che ha copiato o sniffato la chiave privata quindi sostanzialmente come se fossero dei codici IBAN la chiave pubblica che però non hanno l'identificazione del suo titolare ecco che allora Bitcoin mi ha detto Bitcoin è anonimo ma in realtà Bitcoin non è anonimo perché il registro pubblico delle transazioni tiene traccia di tutte le transazioni da ora per sempre le transazioni sono visibili a tutti quindi non è proprio una gran forma di anonimato è più corretto probabilmente definirla pseudonimato perché la chiave pubblica non dà informazione diretta del possessore della chiave privata ma c'è comunque trasparenza totale delle transazioni quindi Bitcoin attenzione è un animale strano che per molti aspetti in realtà dà troppa poca privacy e vedremo come questo sia un problema non una feature per quale motivo la comunità che sviluppa Bitcoin sta cercando di fissarlo ma questo registro pubblico che abbiamo anticipato essere un'architrave abbastanza evidente e rilevante di questo protocollo e che abbiamo già anticipato essere chiamato blockchain ah beh fatemi notare che nel paper di Satoshi Nakamoto blockchain erano due parole catena di blocchi ormai il termine è talmente diventato consueto che viene scritto come parola unica per indicare proprio la catena di blocchi di Bitcoin o della tecnologia sottostante Bitcoin ora questo registro pubblico su questo registro pubblico non vengono in realtà segnate le transazioni una alla volta le transazioni non vengono aggiornate singolarmente ma vengono accorpate in blocchi di transazioni un blocco di transazione viene sostanzialmente validato ogni circa 10 minuti e agganciato in coda alla catena di blocchi quindi in coda all'esistente catena di blocchi un nuovo blocco di transazioni viene agganciato ogni circa 10 minuti e cosa vuol dire agganciare un blocco di transazioni? vuol dire in realtà fare del lavoro computazionale che lega due blocchi consecutivi la quantità di lavoro computazionale necessaria a legare due blocchi renderà questo più alta è più rende il legame tra due blocchi impossibile da manomettere da compromettere più lavoro computazionale viene speso in questa attività più difficile è sganciare un blocco di transazioni dal blocco precedente e sostituirlo con qualcosa d'altro con un blocco diverso questa potenza computazionale è misurata in hash al secondo dove hash è la funzione di base che deve essere calcolata e che ovviamente sarà oggetto del nostro corso di studi ma è interessante se andiamo a vedere qual è la potenza computazionale della rete bitcoin dal gennaio 2009 ad oggi su questa scala che sarebbe meglio se fosse logaritmica in qualche modo perché la potenza computazionale come vedete è cresciuta in maniera esponenziale ed ha raggiunto oggi quattro hexa hash ora hexa beta tera giga mega chilo ok cioè stiamo parlando di miliardi di miliardi di hash al secondo ora tenete conto che circa diciotto mesi fa qualcuno si era preso la briga di fare un'analisi comparativa ed aveva verificato che diciotto mesi fa diciotto mesi fa quando eravamo circa probabilmente mezzo hexa hash la rete computazionale bitcoin era decine di migliaia di volte più performante dei top 500 super computer al mondo cioè se noi prendiamo i 500 top computer al mondo i 500 computer al mondo più potenti più performanti sono nel fare l'operazione di hash decine di migliaia di volte meno efficaci del network bitcoin e questo 18 mesi fa probabilmente oggi sono centinaia di migliaia di volte meno performanti ovviamente i top super computer al mondo sono hardware generico capace di fare qualunque tipo di conto multipackos mentre l'hardware utilizzato attualmente nella rete bitcoin è hardware specifico è hardware che è capace di fare solo l'operazione di hash ma chi è che mette questa potenza computazionale abbiamo detto che un qualunque nodo può fare questa attività di validazione delle transazioni i nodi che effettivamente fanno questa attività che forniscono questa potenza computazionale vengono chiamati nodi minatori nodi di mining si capirà meglio perché questo nome così evocativo e suggestivo ma sostanzialmente i miner forniscono la potenza computazionale per processare e validare le transazioni sostanzialmente evitando la doppio spesa rendendo quindi sicuro il network e sincronizzando tutti i nodi la cosa interessante è che i miner competono fra di loro fanno a gara per essere il nodo che per primo valida un blocco di transazioni ma perché questa competizione beh perché il vincitore della competizione cioè colui che per primo dà la prova del lavoro la proof of work di aver validato un blocco viene ricompensato con l'emissione di nuovi bitcoin e questo è un altro straordinario colpo di genio di Satoshi Nakamoto il quale usa le rendite di signoraggio per coprire i costi del network le rendite di signoraggio sono quella gigantesca quantità di ricchezza che deriva dalla possibilità di battere moneta voi sapete che quando la banca centrale europea stampa forse dovremmo dire stampava perché dice che non le stampa più però non ha mandato fuori corso le banconote da 500 euro bene quando la banca centrale europea stampava una banconota da 500 euro io non so esattamente quale fosse il costo di stampa ma presumo pochi centesimi quindi ogni banconota che veniva stampata sono 499 euro arrotti di utile decisamente un bel business che dite no? tant'è che questo privilegio il privilegio di battere moneta e quindi di generare ricchezza sostanzialmente oggi dal nulla è un privilegio che il signore che l'imperatore che Cesare che il governo ha sempre voluto arrogare a sé ed è per questo che si parla di reddito di signoraggio bene in questa rete bitcoin che non è altro che un gigantesco sistema di back office i costi della rete sono coperti con le redditi di signoraggio in qualche modo le redditi di signoraggio sono socializzate a beneficio di tutti nella rete i minatori i nodi minatori i nodi di mining devono fare questa attività questo lavoro e questo lavoro è computazionalmente particolarmente impegnativo per risolvere un problema di computer science di informatica noto come problema dei generali bizantini viene di solito descritto in questo modo immaginate di avere dei generali sono bizantini perché possiamo essere certi che almeno uno di loro è un traditore e stanno assediando una città ora i generali devono raggiungere il consenso su che cosa fare sulla strategia cioè se attaccare la città o se invece sospendere l'assedio e rinversi ora la cosa importante la cosa rilevante è che facciano tutti la stessa cosa perché sarebbe disastroso che alcuni attaccassero mentre altri si ritirano e quindi riducendo l'efficacia della loro strategia bene se questi generali non possono riunirsi in un summit ma devono parlare fra di loro attraverso dei messaggeri è un risultato positivo cioè un risultato dimostrato in letteratura che non possono raggiungere il consenso un network di nodi asincroni in cui qualcuno dei nodi possa essere malfunzionante o malizioso non può raggiungere il consenso su nulla perché chiaramente un generale onesto dirà ritiriamoci il generale disonesto a cui arriva il messaggio ritiriamoci propagerà il messaggio attacchiamo e quindi di conseguenza quando un messaggio raggiunge me io non so se è un messaggio onesto o un messaggio disonesto ora questo problema che ripeto in computer science ci sono tantissimi risultati positivi di impossibilità cioè dimostrato che è impossibile per un network casincrono in cui alcuni dei nodi siano maliziosi o malfunzionanti raggiungere il consenso e ovviamente spero che vi sia chiaro che se stiamo parlando di un network che trasferisce valore potete prenderlo per certo il fatto che alcuni nodi non solo saranno maliziosi ma saranno attivamente impegnati in operazioni di sabotaggio che facciano in modo di deviare al loro vantaggio parte della ricchezza che viene trasferita ma allora come fanno i minatori a raggiungere il consenso ci arriviamo tra un secondo sospendiamo per un attimo questa domanda e siccome fanno un'operazione di hash cerchiamo di capire cos'è questa operazione di hash una funzione di hash è un algoritmo che sostanzialmente prende un set arbitrario di dati in input di lunghezza variabile e restituisce in output appunto un output di lunghezza fissata ed è una funzione sostanzialmente non invertibile cioè impossibile dall'output ricavare l'input l'hash è un po' come se fosse l'impronta digitale univoca del dataset di input come l'impronta digitale dell'essere umano è univoca per ogni dna che c'è in input ma allo stesso modo da un dna deriva un'impronta digitale ma dall'impronta digitale è impossibile ricavare il dna dell'essere umano ecco in maniera un po' equivalente da un qualunque dataset è possibile ricavare un hash value che è univoca di quel dataset ma dall'hash value non è possibile ricavare il dataset di input bitcoin usa in particolare una funzione di hash che si chiama secure hash algorithm hash 256 perché il suo output è 256 bit e l'umbo 256 bit allora immaginiamoci ma non immaginiamoci perché sarà uno dei vostri sarà il vostro primo assignment sostanzialmente del corso di calcolare hash 256 della stringa hello world come si fa tipicamente in informatica se calcoliamo hash 256 di hello world otteniamo questo risultato che sembra alfanumerico e lo è ma è un numero esadecimale cioè un numero in cui le cifre vanno da 0 a 9 dopo il 9 c'è a b c d e f ok quindi sono 16 cifre e vedete inizia con 3 1 5 f adesso immaginiamo che io vi dia come assignment quello di trovate qualcosa da attaccare in coda hello world che faccia in modo che il risultato di shadow 256 abbia 4 0 all'inizio allora uno studente volenteroso inizia e dice ma proviamo hello world 0 e diventa 1 3 1 2 proviamo hello world 1 e 9 a f proviamo 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 ve lo risparmio questo primo esercizio ve lo risolgo io quando arriviamo a 4249 ancora non ci siamo 4250 bingo l'output di shadow 256 a 4 0 bene che cosa come viene usata la funzione di hash dai minatori per validare un blocco di transazioni ora immaginate di essere un minatore dovete validare queste nuove transazioni i dati che entrano a far parte di questo blocco includono l'hash value del blocco precedente cioè se voi prendete questo blocco e lo date in input alla funzione shadow 256 crea questo valore di hash che entra nei dati di questo blocco ed il lavoro che il minatore deve fare è trovare quel numero casuale da usare una volta chiamato tipicamente nonce che aggiunto a questa struttura dati che comprende tutte le transazioni che vogliono che devono essere validate più l'hash value del blocco precedente ecco quel nonce quel numero speciale che fa sì che l'hash value di questo blocco del blocco che sto tentando di validare abbia un numero molto alto di 0 all'inizio il primo che trova questo numero e può farlo solo brute force solo per tentativi è colui che ha validato il blocco e come darà prova del lavoro che ha fatto ma è molto semplice pubblica questo blocco e fa vedere che questo numero effettivamente è un numero che chiunque calcoli l'hash value di questo blocco vedrà che dà un hash value un risultato con il desiderato numero di 0 iniziale quindi la proof of work non è altro che l'esibire questo numero il primo nodo validato che esibisce un numero che rende l'ash value del blocco piccolo abbastanza cioè un numero che parte che inizia con molti 0 ha vinto questa gara nel vincere questa gara ovviamente la cosa rilevante è che un blocco ci sia ogni 10 minuti circa perché e questo è quello che si verifica certamente c'è della varianza per cui ogni tanto capitano dei blocchi ogni circa 40 minuti o capitano anche dei blocchi pochi secondi dopo il blocco precedente ma quello che capita nella rete bitcoin è che sostanzialmente la difficoltà del problema che è ovviamente proporzionale al numero di 0 che vengono richiesti se io ho richiesto 4 0 dopo il relo world in 4500 tentativi sono stati sufficienti ma se avessi richiesto 5 6 7 0 avreste visto che il numero di tentativi brute force da fare per risolvere il problema immediatamente cresceva ed ecco che allora che cosa succede sulla rete bitcoin siccome la ricompensa delle emissioni nuovi bitcoin è economicamente significativa i nodi fanno a gara per essere i primi a validare un blocco di transazione siccome per validare un blocco bisogna tentare bisogna fare molte operazioni di hash i nodi hanno investito in maniera da avere un computational power in molti hash al secondo ma maggiore la difficoltà maggiore la potenza computazionale più si abbassa il tempo necessario a risolvere il problema bene il protocollo bitcoin ogni due settimane aggiusta la difficoltà del problema per fare in maniera che in media il problema si è risolto ogni dieci minuti allora il minatore che riesce a risolvere il problema ottiene la ricompensa ma siccome la potenza computazionale per ottenere questa ricompensa visto che c'è una competizione aumenta l'aggancio tra due blocchi diventa più robusto perché chiunque volesse manipolarlo dovrebbe investire tantissima potenza computazionale ma allora più robusta è la catena più vale più sicuro è bitcoin ma più sicuro è bitcoin maggiore è il valore della ricompensa che i minatori hanno maggiore è il valore della ricompensa maggiori sono gli investimenti in hardware e in potenza computazionale ed ecco che si innesca una spirale che rende sempre più sicuro bitcoin lo fa valere di più incita nuovi investimenti e via di seguito fino ai valori attuali con una crescita di bitcoin straordinaria ma perché è così rilevante ogni 10 minuti ed è così difficile mantenerlo perché ormai i minatori usano dell'hardware specializzato vi prego non pensate di poter tornare a casa e di poter sicuramente potete aprirvi un nodo bitcoin sarà una delle cose che sarete invitati a fare tornando a casa non pensate di poter in qualche maniera con i vostri pc portatili contribuire significativamente alla potenza computazionale della rete non avete alcuna probabilità di minare un blocco neanche in un miliardo di anni con la potenza computazionale a vostra disposizione perché quello che viene usato è oggi dell'hardware specializzato appunto application specific integrated circuit che viene usato che è stato disegnato progettato e costruito solo e soltanto per fare l'operazione di hash in maniera efficace e soprattutto efficace dal punto di vista energetico ma i dieci minuti l'intervallo di ogni dieci minuti è importante perché in qualche modo definisce la politica monetaria di bitcoin perché abbiamo detto che l'emissione di bitcoin avviene come remunerazione del blocco e originariamente quindi venivano emessi 50 bitcoin ogni dieci minuti guardate che ogni quattro anni la quantità di bitcoin si dimezza e quindi siamo passati a 25 bitcoin e siamo in realtà in questo momento nel 2017 nell'era di 12,5 bitcoin per blocco ora dovete avere con certezza acquisito il fatto che questo è l'unico modo con cui nuovi bitcoin vengono emessi in circolazione non c'è altro modo e magari a questo punto diventa comprensibile perché i nodi validanti vengono chiamati nodi di mining perché la politica monetaria del bitcoin mima in qualche modo la progressiva scarsità estrattiva dell'oro che cosa intendo forse non ne siete avvertiti ma tutto l'oro del mondo può stare in una piscina una piscina olimpionica può ospitare tutto l'oro del mondo e la quantità di oro che marginalmente noi possiamo estrarre è assolutamente trascurabile di conseguenza questo assomiglia molto a quello che vuole fare bitcoin che Nakamoto fa con bitcoin creando sostanzialmente un digital cash o un digital gold la cui offerta è completamente libera da interventi discrezionali sì questa è la politica monetaria strettamente deterministica di bitcoin come vedete l'offerta di bitcoin è totalmente inelastica non ha alcun modo di adattarsi alla domanda e siamo nel 2017 più o meno abbiamo superato siamo tra i 16 e i 17 milioni di bitcoin nel 2029 il 97% dei bitcoin saranno già tutti emessi e l'ultima frazione di bitcoin l'ultimo 100 milionesimo di bitcoin quella frazione che si chiama viene detta appunto Satoshi in onore a Satoshi Nakamoto perché bitcoin è frazionabile fino a un 100 milionesimo l'ultimo 100 milionesimo di bitcoin verrà emesso più o meno nel 2141 quindi la politica monetaria di bitcoin è deterministica il rate la velocità con cui bitcoin vengono emessi decresce di mezz'anno se ogni 4 anni e l'offerta di bitcoin è completamente inelastica non ha alcun modo di adattarsi alla domanda di bitcoin ora quello che bitcoin realizza è in realtà il sogno di un premio Nobel per l'economia Frederick August Von Hayek Frederick Von Hayek uno straordinario economista tra i fondatori della scuola austriaca ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita a scrivere e descrivere un trattato un libretto che si chiama Denizionalization of money che vi chiedo fatevi un regalo ragazzi soprattutto quelli che studiano economia e finanza o forse dovrei dire soprattutto quelli che non studiano economia e finanza provate a leggerlo è un libretto che sicuramente apre la mente su che cos'è la moneta perché lì Frederick Von Hayek ripeto non Ferdinando Metrano ma Von Hayek premio Nobel per l'economia non solo lamenta il fatto che la storia della moneta è una storia ininterrotta di inflazione creata dai governi al loro beneficio ma soprattutto è furibondo per il fatto che noi accettiamo come inevitabile come indispensabile il monopolio governativo della moneta dice noi che non accetteremo il monopolio su alcun bene per quale motivo siamo disponibili ad accettare il monopolio su quel bene sintetico che entra al 50% in qualunque transazione commerciale e che si chiama moneta e perché questo monopolio lo abbiamo affidato al governo perché come tutti i monopoli ci ha privato dell'opportunità di scoprire e utilizzare una moneta più affidabile una moneta migliore che potesse emergere dalla libera competizione di mercato ecco noi storicamente siamo stati privati di questa opportunità e conclude dicendo benedetto il giorno in cui non più dalla benevolenza dei governi ci aspetteremo una buona moneta ma dalle banche commerciali per il loro stesso interesse e si perché lui sognava in un sogno lisergico in qualche modo da fine anni 70 che le banche commerciali avrebbero emesso moneta privata facendosi concorrenza fra di loro in un mercato competitivo in cui si sarebbe poi affermata la migliore moneta bene il suo sogno si è realizzato si è realizzato e ma sono le comunità peer-to-peer in giro per il mondo che possono dotarsi di una nuova buona moneta e veramente vi incoraggio a leggere questo libretto di Nationalization of Money o almeno la lezione linkata che è la sua conferenza al Golden Monetary Conference del 77 in cui dà delle riflessioni straordinariamente pertinenti per uno come me che ha studiato fisica e che ha lavorato vent'anni nel mondo derivato dei tassi il più grande regalo che il bitcoin mi ha fatto è stato riflettere su cosa fosse la moneta e sì perché io sono arrivato all'età di 44 anni senza essermi mai posto la domanda di che cosa fosse la moneta di che tipo di contratto sociale ci fosse dietro e voi siete per fortuna molto più giorni di me partite a vantaggiarvi ponetemi questa domanda e vediamo che tipo di risposta vi sapete dare tramite i corsi di economia monetaria che avete magari frequentato ho questo corso su bitcoin io provo a darvi uno spunto e a dire che la moneta è uno strumento di relazione sociale e sì perché noi siamo tutti nati nell'economia del dono spero per voi che nessuno di voi abbia dovuto pagare per le cure parentali che i vostri genitori vi hanno fornito o vi stanno fornendo se qualcuno di voi è veramente dovuto pagare per questo mi dispiace credo che sarà condannato a seri problemi psicologici nel resto della sua vita questa economia del dono tipicamente non è ristretta alla famiglia ma si allarga ai parenti agli amici ai vicini alla tribù insomma sappiamo tutti che persino a Genova se si invita qualcuno a cena quando esce non gli presentano il conto l'economia del dono e i genovesi non me ne vorranno sono battute stereotipate l'economia del dono è un'economia che io chiamo economia perché prevede in realtà una gratificazione quando io faccio qualcosa per i miei figli ne ottengo una ricompensa che è la mia gratificazione affettiva o forse anche addirittura una gratificazione che immediatamente più facilmente inquadra come economica ho nel retro della mia testa l'idea che forse probabilmente speriamo certamente se un giorno io avessi bisogno i miei figli ricambierebbero quando invito qualcuno a cena a casa mia non è che strettamente mi aspetto che lui ricambi ma probabilmente mi conforta il fatto oltre il piacere della serata che evidentemente altrimenti non organizzerei mi conforta il fatto che se dovesse avere bisogno probabilmente quella persona mi ospiterebbe una sera a cena a casa sua e questo vi garantisco è una ricompensa economica ovviamente quando il circolo di relazioni si allarga oltre la tribù oltre i vicini oltre le persone di cui ci fidiamo immediatamente ci incrociamo con persone che non conosciamo di cui non ci fidiamo ma con cui abbiamo necessariamente la necessità di cooperare lo vogliamo fare perché intrinsecamente siamo stati creati così siamo antropologicamente fatti per cooperare con le persone per cercare di commerciare e di beneficiare gli uni del lavoro degli altri allora vi racconteranno forse del baratto ma il baratto è una straordinaria narrativa ma non c'è alcuna evidenza antropologica che sia mai stata usata da alcuna società però insomma si capisce ci incorciamo Chiara mi vende del latte e io ricambio con le mie uova peccato che se Chiara le mie uova oggi non le vuole non ha modo di posticipare nel tempo la ricezione delle uova o se ha bisogno di qualcosa più urgentemente delle uova non può farlo il limite del baratto è la coincidenza dei bisogni ma allora l'uomo inventa la moneta come mezzo di scambio la moneta risolve il problema della coincidenza dei bisogni la moneta cari ragazzi non sarà la matematica non sarà la musica non sarà la letteratura non sarà l'arte ma è una straordinaria invenzione del genio umano per cooperare con le persone di cui non ci fidiamo guardate che la moneta è una straordinaria invenzione del genio umano ed è uno strumento di relazione sociale qui forse si capisce anche la connotazione etica caratteristica di molte religioni le quali individuano nell'accumulo di ricchezza qualcosa da biasimare perché c'è chiaramente la confusione di quello che è un mezzo un mezzo per ottenere relazioni sociali in un fine l'accumulo di moneta per la moneta è qualcosa che facilmente dal punto di vista etico è individuabile in una distorsione etica o comunque psicologica o comunque un'eterogenesi dei fini di quello per cui la moneta è sostanzialmente stata creata e Bitcoin ce lo siamo già detti è una moneta in pole position per l'economia dell'informazione ma allora proviamo a fare una cosa un po' ridicola mi perdonerete ma serve per capire la portata culturale di quello che rappresenta Bitcoin immaginiamo di sintetizzare una slide di tutta la storia della moneta coraggio ce la facciamo partiamo dal goal standard ok commodity money standard l'oro viene riconosciuto da tutte le civilizzazioni del mondo indipendentemente senza pianificazione centralizzata come primo tipo di moneta sapete perché è una buona moneta perché è scarso e perché luccica e sì la composizione chimico-fisca dell'oro fa sì che non interagisce con l'ossigeno quindi non si ossida e quindi mantiene nel tempo il sol cicchio certamente anche i ciottoli in riva al mare hanno dei riflessi straordinari finché sono bagnati ma appena si asciugano diventano grigi le altre cose che luccidano anche hanno un grande valore diamanti il diamante avrà un problema se io prendo un diamante e lo divido in due parti le due metà non valgono quanto il diamante originario quindi non è divisibile l'oro invece si presta io metto un bel paiolo lo sciolgo e lo posso dividere a mio piacere quindi l'oro è scarso e luccica questi sono i motivi che lo rendono una buona moneta però siccome il paiolo tira il suo la temperatura è un'attività scomoda abbiamo affidato a Giulio Cesare l'autorità la certificazione della purità dell'oro il suo faccione stampato sul sesterzio doveva garantire la quantità di oro prima crisi inflazionistica della storia che si conosca Cesare Augusto c'è talmente tanto poco oro nel sesterzio che perfino la plebe se ne accorge l'oro ha peraltro un problema pesa se siete un mercante fiorentino o un mercante inglese e dovete andare in giro con un sacchetto d'oro pesante questo è problematico anche in termini di sicurezza allora viene ai mercanti ai banchieri fiorentini e agli orafi inglesi l'idea di offrire i loro forzieri per ospitare l'oro e mettendo in cambio del deposito in oro una banconota cioè un certificato che all'inizio era il portatore e che poi invece scusate che all'inizio era il nominativo e che poi velocemente diventa il portatore che rappresenta quel deposito che è redimibile con l'oro nel deposito ma fractional money i banchieri fiorentini e gli orefici londinesi sono molto veloci a realizzare il fatto che il turnover di questi certificati è bassissimo non c'è più del 10-15% di persone che vengono a richiedere l'oro in cambio di queste banconote le banconote girano e nessuno va mai a redimerle e allora idea geniale pensano e se mettessimo più banconote dell'oro che abbiamo nei forzieri chi se ne accorge? la risposta è nessuno nasce la moneta frazionaria in cui la quantità di banconote supera le riserve di valore veramente conservate e tralasciamo la differenza tra moneta e currency che spero vi sia evidente ma la tralasciamo perché nell'ambito di bitcoin bitcoin è tutto currency è tutto contante è tutto corrente quindi per bitcoin tutta la moneta bitcoin esiste sotto la forma di currency e arriviamo direttamente al 1972 quando nonostante la diffusione di questa pratica di moneta frazionaria era evidente a tutti che nessuna moneta era più convertibile in oro tranne il dollaro statunitense tutto l'oro di fortnox non sarebbe bastato a redimeri dollari in circolazione nonostante questo questa convertibilità in oro rappresentava un problema per la discrezionalità della politica monetaria statunitense ed ecco che quindi Nixon dice basta il dollaro non è più convertibile in oro da allora abbiamo quella che viene chiamata fiat money proprio nel senso di fiat lux et lux fuit moneta che nasce dal nulla che ha valore solo perché decichiamo che abbia valore sarà interessante in qualche prossima lezione farvi vedere i grafici d'aumento del debito pubblico statunitense di come la rottura della parità del cambio in oro abbia innescato un processo esponenziale di crescita del debito pubblico di crodo del valore d'acquisto del dollaro ma insomma quest'è e allora oggi ci troviamo con fiat money e con bitcoin da una parte ora immaginiamo per un attimo che un alieno arrivi in questa stanza e voi voi vi incaricate di spiegare all'alieno il sistema il contratto sociale e il sistema tecnico che è dietro fiat money cioè dietro quei pezzetti di carta colorata che ci portiamo in tasca e che chiamiamo banconote e io invece spiego bitcoin d'accordo? proviamo partiamo e vediamo l'alieno che tipo di giudizio trarrà da questo confronto allora voi io vi attacco e dico subito le banconote che avete in tasca sono le monete del monopoli con carta un po' più sofisticata con l'inchiostro un po' più sofisticato ma non hanno valore intrinseco e voi però difendete e dite no ma hanno corso legale c'è dietro un contratto sociale che gli dà valore va bene e dite professore però anche bitcoin in realtà non ha alcun valore intrinseco non è convertibile in niente e io dico sì beh però attenzione è un asset digitale trasferibile ma non duplicabile questa è una peculiarità che ha solo bitcoin in qualche modo forse sembra essere loro digitale vabbè d'accordo uno pari in entrambi i casi non c'è valore intrinseco poi però io incomincio a ridere del fatto che il paradigma di sicurezza adottato da voi sia carta e inchiostro ripeto carta speciale inchiostro speciale la carta e inchiostro le monete le monopoli invece la sicurezza dietro bitcoin è basata sulla matematica e sulla pittografia voi poi spiegate all'Aieno che c'è un signore a Francoforte che di questa carta moneta può stamparla quanta ne vuole quando vuole senza dar conto di nessuno perché è un'autority indipendente e sì perché noi giustamente consapevoli che il signoraggio è un potere altissimo in tutte le democrazie almeno in tutte le democrazie abbiamo affidato questo potere non più al governo non più al potere esecutivo ma a dei tecnici formalmente indipendenti dal potere esecutivo che si chiama appunto il banchiere centrale la banca centrale bene quindi voi gli spiegate che Mr. Draghi può stamparne quanto ne vuole io spiego all'Aieno che invece è assolutamente algoritmicamente deterministico il protocollo il paradigma con cui i bitcoin vengono emessi e nessuno lo può manipolare per quelli di voi che hanno fatto con me interest rate derivatives sapete che oggi abbiamo tassi di interesse negativi i tassi di interesse negativi sono la dimostrazione storica della fine dell'era Wingsiliana Wingsil era un economista che sosteneva che i banchieri centrali possono governare la quantità di moneta usando i tassi di interesse solo che in questo momento i tassi di interesse devono essere abbassati 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 siamo arrivati a tassi di interesse negativi e nonostante questo non riusciamo a governare l'inflazione quindi siamo in un momento storico che vede proprio il fallimento dell'approccio Wingsiliano cioè di governare la moneta con i tassi di interesse e io invece dico al nostro alieno che per quello che riguarda il supply di moneta bitcoin non ha problemi ha una politica deterministica appunto e basta adesso voi mi direte secondo voi se l'alieno riterrà me essere poco credibile o se l'iterrà voi essere poco credibili ma bitcoin non è in realtà una buona moneta dedicheremo tutta una lezione a spiegare cos'è una moneta e capiremo che bitcoin non è una buona moneta nel senso che è fondamentalmente una commodity bitcoin non è una cryptocurrency è una crypto commodity è più oro digitale come l'oro ovviamente in questo momento come l'oro all'inizio è stato usato come moneta bitcoin in questo momento storico viene usato come moneta ma è fondamentalmente oro allora il confronto più interessante che mi interessa fare è quello tra l'oro fisico e l'oro digitale abbiamo già detto che l'oro fisico è stato adottato da tutte le civilizzazioni al mondo senza una pianificazione centralizzata cioè popolazioni distanti migliaia e migliaia di chilometri separate da oceani indipendentemente hanno scoperto l'utilità dell'oro come buona moneta quello che sta succedendo oggi che senza alcuna pianificazione centralizzata ci sono sempre più esseri umani che capiscono che il bitcoin è una straordinaria invenzione è una straordinaria buona moneta può essere usato come moneta e nello scoprirlo ne aumentano la diffusione e ne aumentano implicitamente il valore per secoli l'oro fisico è stata la forma di moneta di maggior successo bene in questi anni il bitcoin è la forma di cryptocurrency di maggiore successo ovviamente l'oro fisico ha dato ha innescato la creazione di tutti i sistemi monetari che conosciamo ed è stato sorpassato da altre forme di moneta più avanzate senza per questo diventare obsoleto bene anche bitcoin innescherà sta innescando nuovi sistemi monetari e sarà sorpassato magari da nuove criptovalute senza per questo diventare obsoleto attenzione che in questa logica di tante valute che sono possibili di un sogno aiechiane che si realizza tanti ci marciano e molte sono le frodi allora quando guardiamo agli alternative coins cioè a quelli che hanno tentato di replicare il successo dell'esperimento bitcoin prima cosa se un coin non è acquistabile in euro o in dollari su diverse molteplici borse in giro per il mondo è una frode è il caso dei vari one coin swiss coin uno coin che mi permetto di salutare perché usano tipicamente i miei video per le loro strategie di marketing ma sono delle truffe belle e buone sono degli schemi di ponzi marketing piramidale da evitare come la peste per fortuna gli strali delle diverse consob e agenzie di controllo incominciano a colpirli e speriamo che la loro fine ingloriosa meritate arrivi velocemente ma anche se non guardiamo le truffe più semplici e più alimentari e andiamo verso vere e proprie criptomonete che sono dotate di una loro blockchain molte di queste sono schemi pump and down cioè sono tentativi di chi ha perso il treno bitcoin o percepisce di aver perso il treno bitcoin perché chi sale sul treno bitcoin oggi se bitcoin è aumentato di mille volte di valore negli ultimi sei anni è facile che nei prossimi sei anni o varrà zero o aumenterà ancora di valore mille volte quindi c'è ancora tempo per salire su questo treno ma ripeto tanti tentativi di replica sono stati schemi pump and dump cioè schemi in cui qualcuno pompa un coin in alto tranne poi venderlo in grandi quantità facendolo crollare e usando questo giochino per truffare le persone allora se noi guardiamo la market cap la capitalizzazione di mercato delle monete principali vedete che tra le prime sei per esempio io sconsiglio consiglio di stare lontanissimi da Dash che a mio avviso assomiglia moltissimo a una pump and dump mentre ci sono esempi più o meno legittimi di tentativi di replicare bitcoin ma migliorando marginalmente in qualche aspetto come Ethereum Ripple Monero Ethereum Classic aggiungerei a questa lista Zcash e Stella e poi basta tutto il resto tutte le migliaia dei tentativi che clonano bitcoin sono sostanzialmente truffe magari un po' più sofisticate di OneCoin o SwissCoin ma sostanzialmente equivalenti l'ultima lezione del corso che quindi vedrà sostanzialmente quattro lezioni strettamente tecniche tecnologiche una lezione monetaria e poi una lezione su applicazioni non monetarie di questa tecnologia e si perché ottobre 2015 The Economist fa questa splendida copertina in cui dichiaro blockchain non bitcoin sarà rivoluzionaria nel banking oddio ma davvero ma guardate allora c'è una grandissima confusione bitcoin dice Mark Andreessen è come internet del 94 strano e spaventoso e soprattutto Mark Andreessen mi piace perché dice è un po' c'è una società e queste banche e questi corporate e queste banche che sperano in una blockchain senza bitcoin proprio come volevano andare online nel 1994 ma non su internet e sì perché voi siete troppo giovani per ricordarlo ma nel 94 le banche e i corporate avevano paura di mettere i loro pc i loro desktop su internet perché internet era popolata da agenti sconosciuti perché internet non era regolamentata perché internet era pericolosa e allora veniva proposto da CompuServe e IOL in certo qual modo anche da Microsoft col suo RSN l'idea del modello del giardino recintato cioè dell'accesso ai contenuti del web e ai servizi del web controllato ora noi possiamo riderne o vi potrà sembrare implosibile ma questo è assolutamente quello che succedeva alla fine degli anni 90 guardate che non è che la percezione di quei rischi di quei pericoli fosse totalmente infondata tutt'altro era proprio vero che quei rischi c'erano sappiamo abbiamo imparato quanto pericoloso è il cybercrime ma la verità è che quello che abbiamo imparato è che i benefici di andare su internet superano diciamo i lunghi rischi per cui oggi non c'è nessun computer in una banca in un'azienda che non sia collegato all'internet bene nel mondo del bitcoin abbiamo visto una narrativa che si modifica perché se nel 2014 si parlava solo di bitcoin anche perché vi ricordate a fine 2013 era arrivato a 1200 dollari quindi tutti erano straordinariamente interessanti nel 2015 la copertina dell'economist lancia la tecnologia blockchain staccata da bitcoin siccome il sottoscritto e tanti altri abbiamo reso evidente che la blockchain non esiste senza bitcoin nel 2016 sono focalizzati sui distributed ledgers allora nell'ultima lezione cercheremo di parlare di cosa sia i distributed ledger ma mi anticipo che alla fine non si sa cosa siano perché non esistono sostanzialmente sono una promessa che ancora rappresenta però una chimera tant'è che la mia scommessa è che nel 2017 quest'anno vedremo sostanzialmente un ritorno alla tecnologia di database cioè impareremo che queste distributed ledger non sono altro che le database arricchiti con tecniche criptografiche ogni tanto mi piace chiamarli database pompati con steroidi criptografici cioè impariamo che la criptografia nella esplosione nucleare di bitcoin c'è un fallout radioattivo che è la criptografia applicata quindi tanta gente sta capendo che la criptografia applicata è qualcosa di utile possiamo usarla per migliorare i nostri processi database centrici e nel 2018 vedrete che si tornerà a bitcoin e quindi questo corso è per voi una straordinaria opportunità per usare quest'anno di pausa per mettere in pole position nella comprensione di cos'è questa tecnologia e soprattutto di cosa è bitcoin per poter poi con efficacia cavalcare un trend che sarà certamente inarrestabile allora vi invito sinceramente a leggere il paper seminare di Satoshi Nakamoto e si clichet parva componere mani anche i primi tre capitoli del mio paper I like money che ripercorrono in maniera divulgativa che cosa sia bitcoin e blockchain nelle prossime lezioni affronteremo temi di criptografia quindi la prossima lezione sarà dedicata alla criptografia su chiave elettrica poi affronteremo come la blockchain è utilizzata per raggiungere consenso quindi blockchain e algoritmi di consenso distribuito poi analizzeremo le transazioni e come vengono effettuate le transazioni e il linguaggio di script come sono composte le transazioni per tornare quindi alla blockchain ai blocchi a come sono fatti i blocchi a cos'è il mining ed infine concluderemo il corso con una lezione sulle implicazioni monetarie di bitcoin e un'ultima lezione sulle applicazioni non monetarie di questa tecnologia saranno diversi i testi di riferimento a cui vi rimanderò su tutti Andrea Santonopoulos Mastering Bitcoin ma poi anche Pedro Franco Understanding Bitcoin nonché il libro di Princeton sul bitcoin e queste tecnologie ci saranno diverse risorse in rete e ci saranno di volta in volta degli assaggi un po'